Io vedo le condizioni per una nuova legge elettorale, francamente, perché intanto conosco la nostra disponibilità. Io continuo a ritenere, se ci fosse una riflessione più serena, che la nostra proposta di doppio turno sarebbe qua. Io invito ancora una volta a riflettere proprio anche la destra, eccetera, perché secondo me è quella. Però noi non siamo fermi lì, se non vogliono quella, se non è possibile quella, noi sappiamo di poter fare, di poter ragionare attorno a proposte che possono incrociare anche esigenze altrui. Qual è, semmai, il punto interrogativo? Lo dico molto sinceramente. Cioè, noi siamo il Partito Democratico, abbiamo detto più volte quella nostra politica, c'è un centro-sinistra di governo che si rivolga ai cerimodati. Quindi noi, come dire, lo schema di gioco nostro è quello. E quindi siamo in condizioni anche di capire, di concepire, diciamo, una proposta in termini di legge elettorale. Quando invece vedo che, secondo un costume, secondo me, non positivo, unico in tutto l'Occidente, noi siamo in mesi nei quali si fa il restyling, io non lo so quali possono essere le considerazioni di chi sta progettando il restyling. Perché temo che sarà in ragione del restyling che verrà fuori una posizione vera e ultimativa sulla legge elettorale.